No a nuove licenze e taxi in città. Il Tar dà ragione al Comune. Dopo la decisione del Tribunale amministrativo regionale, che ha vallato la posizione degli avvocati di Palazzo San Giacomo contro un ricorso presentato da due tassisti precari per la mancata concessione di nuove licenze, interviene Feder Consumatori Campania, invocando più tutele per l'utenza, mentre sindacati, l'Orsa Taxi, concorda con il non aumento delle licenze. Ma c'è difficoltà a reperire un taxi con il boom turistico. I numeri parlano chiari in questo senso. Quattro utenti su dieci non trovano un taxi a Roma, Milano e Napoli. E a Napoli servirebbero dai 300 taxi in più a salire. Secondo Rosario Gallucci, segretario nazionale Orsa Taxi, il problema non è la carenza di taxi per far fronte ai grandi flussi turistici che negli anni scorsi non esistevano, ma va rivisto il regolamento e ridotto il traffico. Vanno ampliate le turnazioni lavorative e servono più corsie preferenziali e che venga aumentata la velocità commerciale delle auto bianche attivando le ZTL e non togliendole come negli ultimi anni.